Con il Presidente di Vittoria Mercati per questa edizione 2014 della Fruit Logistica che vede la presenza dell'ente gestore. Sì, siamo qui per la prima volta con il nostro marchio, fra l'altro Vittoria Mercati, che abbiamo presentato. Abbiamo uno spazio all'interno di un'area dove sono tutti i mercati associati italiani. È stata un'occasione anche di scambio di informazioni e di collaborazione per il futuro con le altre strutture nazionali. E in più abbiamo voluto offrire un servizio a quanti avevano interesse a poter svolgere un'attività di incontri e di relazioni internazionali con operatori provenienti da altri paesi. Quindi è un'esperienza sicuramente positiva che ripeteremo chiaramente forti della nuova organizzazione che daremo alla nostra struttura anche attraverso la Costituzione che verrà proprio nei prossimi giorni del Consorzio di tutela del marchio collettivo Vittoria Mercati. La Fruit Logistica, l'organizzazione, è già proiettata all'edizione 2015. Qual è l'obiettivo di quest'anno per l'ente gestore Vittoria Mercati? Il 2014 è l'anno importante, fondamentale nella nostra attività perché dopo il primo anno nel quale siamo stati molto impegnati in tutta una serie di attività soprattutto organizzative e propedeutiche per il lancio del marchio e dell'attività di commercializzazione, nel 2014 con la Costituzione del Consorzio di tutela e quindi con una diversa organizzazione si avvierà tutta un'attività di promozione dei prodotti ortofrutticoli che vengono commercializzati all'interno del mercato. Quindi il Fruit Logistica del 2015 vedrà non più solo il marchio ma anche il prodotto Vittoria Mercati. Grazie. Grazie. Grazie.